Salmo 15, ritratto del giusto, Salmo di Davide O Signore, chi dimorerà nella Tua tenda, chi abiterà sul Tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevoli il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore, se anche ha giurato a suo danno non cambia, non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente, chi agisce così non sarà mai smosso.